14. Claudio Claudiano Claudio Claudiano, 370-404 a.C., poeta, senatore romano, sostenitore del generale Stilicone, in Rufinum dice «È sempre povero chi desidera». Commento L'insegnamento dei maestri tende a dare sempre minore importanza alla mente che traduce in desideri le insufficienze della coscienza. Per questo il loro insegnamento è un inno al meglio. Per questo il loro insegnamento dei maestri tende a dare sempre minore. Per questo è il loro insegnamento dei maestri. Per questo il loro insegnamento dei maestri tende a dare sempre minore.